Un salve a tutti per la gente e bentornati qui sul mio canale, qui su StumbleGuys Oggi andremo a giocare a questo bellissimo gioco che fa sclerare più di Fortnite Allora possiamo notare che dall'ultima volta che ci ho giocato in video ho cambiato qualcosa Adesso c'ho la skin rara, qua c'ho tipo 360 coppe, una vincita che tipo ci ho messo 3 anni a farla 10 soldi viola qua, 55 gemme e basta Perfetto ragazzi io direi di andare a giocare così almeno vediamo cosa c'è in servo StumbleGuys per noi oggi E indovinate un po' la fortuna oggi ci bacia il cu Perché StumbleGuys ci ha riservato una mappa veramente facile perché basta guardare gli altri che fanno robe E io che mi godo lo spettacolo e che poi alla fine vado tranquillissimo come se non fosse successo nulla Ok, facilissimo Non ho manco mosso un dito per fare sta mappa eh Io manco uno Forse magari... ma che cazzo... Raga ma ha laggato! Ma che cazzo... Annaggia a me sta connessione di mer... Perché porco Giuda... Oggi il computer lo spacco eh Porco di quel di... Cioè avevo vinto no? Però la connessione ovviamente ha detto no! Tu oggi devi perdere! Ma vaffanculo! Andiamo signori, andiamo signori! Dai che me la sento questa la vinciamo! Non interessa nulla la vinciamo di brutto! La vinciamo la vinciamo di brutto eh! Vai vai vai! Vabbè tralasciamo questo dettaglio dai! Ok... No di lusso! Di lusso! Eccoci qua che sta cercando... No questo è difficilissimo! Ma porca di quella! Ok in 3d dobbiamo... Dobbiamo saltare la... Questo è difficile eh! Ma veramente difficile! Questo è veramente difficile... Allora ok... Vedo che qua i laser sono 2... E... E... Ecco... Oh cazzo! Eh va ma... Vabbona va! Perfetto ragazzi! Giriamo! Giriamo! Giriamola! Vai! Giriamola! Eh! Pica! Eh! Pica! Eh! Ma vaffanculo! Ma che cacchio sono 5 già? C'avevamo a fianco quella leggenda... Questa è la mia fortuna... Perfetto signori! Siamo ritornati in partita! Il tempo è splendido oggi! E sto facendo il telecronista stupido... Perché mi sento un po' solo... Oh oh oh! Ok ok! Questa dovrebbe essere ancora più di lusso... Di quella di prima! Ma per questa ci dovrebbe riuscire... Anche un bambino di 5 anni mi dicono... E infatti... Ok! Vai! 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 Oh no! Vai sotto! Vai! Vai! Sì! Sì! No! Madonna ragazzi! Vai! Forte sega! Sì! Ok ragazzi! Ultimo round! Qua ci vinciamo la coppa mondiale ragazzi! Vai! 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 Ah no! Non è l'ultimo round! Allora sono trimone io! Scusate! Vai! Vai! Noi! Che ce la fai! Dai! Che ce la fai! Forza! Ma questa mi sa che è la mappa dove non ci sono riuscito l'altra volta quindi... In teoria... Vediamo se... Oddio! Sì! Sì! Donna raga siamo grandi! Che grandi! Vai! 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 No! Se pareva che cadevo all'ultimo però vabbè... Ok! No! Fammi salire brutto figlio di una migno... No! No 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 no! Oh! E mo' ma ci rutto proprio i coglioni! Ma porca di quell'altro... No! Ma se io vi ho fatto salire fatemi salire anche a meno! Ma devo urlare! Devo fare il basta... Ah! E poi sto urlando alle 7.08 di mattina! Immaginate i miei vicini che stanno dormendo! Mo' mi verranno a bussare la porta sicuro! E' più! E' più! Sto lasciando i miei vicini adesso abbiamo... Quella di prima! Perfetto! Quindi... Signori stavolta ce la facciamo! Me lo sento perché non c'è nessuno! Quindi ce la dovremmo fare perché... Per esempio ci sono tante persone... Poi non riesci perché c'è assembramento no? E noi l'assembramento non lo vogliamo! Però io vedo che l'assembramento sta di là! Quindi non è che mi sembra tanto una buona idea di andare di là eh! Perfetto! No! E' l'immortal... Vai! Mo! Perfetto! Vai mo! Affanculo! Mo mi dovete dire se sto gioco è stumble guys o stumble perdi guys! Perché... Cioè... Praticamente ci ho giocato ieri... Fino alle 2 di notte! Ho vinto... Sempre! Almeno il primo round lo vincevo sempre! Mo no! Uh! Mo ci abbiamo quello del calcio! Ma no! Ma... La freccia del mouse... Ma... Mi si è bagata la freccia del mouse! Vabbè fa niente! Mi si è bagata la freccia del mouse ragazzi! Come faccio a giocare così? Perfetto signori vai! L'altra volta rara! 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 Leggendaria! Porco giù! Vedete che il tifo funziona! Vedete che il tifo funziona! Red Racer! Io direi equipaggia ora! Proprio ora me la devi equipaggiare! Vai! Ok! Perfetto signori! Con questo Red Racer andiamo a farci una bella partitona! Così vediamo se questo Red Racer ci porta un po' più di fortuna che abbiamo perso sempre! Ok! Questa non è una delle più semplici però... Dovrebbe essere abbastanza facile! Perché sono sempre dagli ultimi ragazzi? Ve lo dovete dire? Ora! E me dovete dire pure perché sono incastrato e potete... Eh! È la roba giusta nel mondo raga! Perfetto! Vai 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 vai! Oh! Sta andando bene per adesso eh! Le ultime parole famose! Vai! 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 Vai campione! E vai sto cacchio! Vai 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 vai! Raga ce l'abbiamo fatta! Raga ce l'abbiamo fatta! Perfetto! Che vi ho detto? Red Racer sto coso! Ci porta fortuna! Vedete? Ogni tanto cambiare skin porta più fortuna! Non ho paura! Non ho paura! Forse di questo è un po' sì! Vai vai! Perché sta mappa è infame! Perché non sai mai se ti manda da una parte o ti manda da un'altra! Ok? Ok? Io vi dico se ce la faccio almeno a sta mappa... Rido! Ma proprio rido! Ieri sera fino alle 2 di notte sono stato per cercare di completare sta cacchio di mappa! E non ci sono riuscite! Eh! Ma scusate! Ma io dico no! Signori di Stumble Guy! Ma perché non mi regalate una bellissima skin leggendaria? Così almeno vi faccio un altro po' di pubblicità no? Ragazzi se ce la faccio non ce la farò mai! Ma proprio mai! Ma proprio mai! Questa mappa è il mio acerrimo nemico! Avete capito? Ecco perché! Cioè mi poteva capire pure la skin più leggendaria su sto gioco! Tanto su sta cacchio di mappa perdevo sempre! E un'altra volta quella con il laser! Perfetto! Vai mo! Vai mo che se perde! Vai jumbo! Vai! Tu sto io! Vai! Ma mi sono bugato! Ragazzi sono bugato! Eeeh... Sono... Non ho bugato di più! No! E ho perso! Perfetto! Grazie amici per queste ricompense bellissime! Manco un soldo rosa! Voglio solo soldi che lo... Allora ci dice di cliccare qua! E ci clicco qua! Uuuuh! Skin casuale! Ancora ancora! Ra ra! 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 Ra! Porco di quel demonio morto! Porco di quel demonio! Porco demonio! Porco morto! Cioè manco quella non comune che fa già schifo! Quella comune che fa più schifo di tutti! Cioè... Eeeh... Buongiorno! Senti... Facciamo una cosa! Io ti equipaggio solo se in questa partita vinco! Ok? Un'altra volta questa! Ammettiamo che hai rotto un po' le pallota su questa eh! Vai! Vai Jumbo! Vai Jumbo! Ci sei! Ci sei! Ci sei! Ci sei! Ci sei affatto! Vai Jumbo! Vai Jumbo! Tutti fanno il tifo per te! Vai Jumbo! Il monitor mi si è spento a caso! Buu! Cioè ma che cacchio succede? Oh! Mi si è spento a caso il monitor! Buu! Vai Jumbo! Ma poi ma che cacchio è sto Jumbo raga? Qualcuno me lo spiega? Perché... Io credo di essere un po' schizofrenico eh! Vai! Ne mancano solo sei! Ne mancano solo sei! E poi sono morto! Porco Giuda! Stanno là! Ma perché? Dai destino di me! Oh my God! Amica mia! Senti! Non ti arrabbiare che c'è pure la faccia bella tranquilla! Però la partita l'ho persa! Quindi io in teoria non potrei mantenere la promessa! Io mi tengo quella rara! Vaffanculo! Ebbene ragazzi! Il video per fortuna finisce qua! Iscrivetevi! Attivate la campanellina! E io vi saluto! Gli occhi saluto e ci vediamo in un prossimo video! Ciao!